I diversi approcci di Ray Carlo nei confronti del principe Ferri e del principe Andrea, sono stati criticati da un esperto reale che li ha etichettati come meschini e patetici. Un commentatore reale ha criticato i diversi approcci di Ray Carlo nel trattare suo figlio, il principe Ferri e sua moglie Meghan Markle, rispetto a suo fratello, il principe Andrea. L'esperto ha definito patetici gli sforzi di Charles per risolvere il problema Andrew e il trattamento dei Sussex meschino, e punitivo. Scrivendo su news.com.au, la commentatrice reale Daniela Elser ha accusato il monarca di scegliere la pacificazione filiale piuttosto che la leadership e aggiunto che ha trascorso l'ultimo anno ballando il tip-tap sulla questione Andrew come una nervosa ballerina di fila che sta ancora imparando i passi mentre contemporaneamente andando a tutto toro scatenato su Ferri. Il duca di York è stato nuovamente trascinato nelle notizie a causa della sua associazione con il pedofilo condannato Jeffrey Epstein, dopo che sono stati rilasciati altri documenti giudiziari non sigillati relativi al caso contro Gislem Maxwell che menzionavano il suo nome. Ma la Elser ha affermato che mentre il duca e la duchessa di Sussex hanno ricevuto un'umiliazione dopo l'altra negli ultimi 15 mesi, Andrew sta ancora vagabondando per Windsor in un'auto che costa solo marginalmente meno del prezzo medio delle case del Regno Unito, in realtà, e arrotola la sua veste da giarrettiera.